Grazie, Presidente. Certo, l'Italia deve continuare ad essere presente a tutti i livelli nel Mediterraneo. Ricordiamoci sempre che il Mediterraneo è la terza area più importante della nostra cooperazione economica, dopo l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Quindi è una questione geopolitica, è una questione di sicurezza, è una questione di immigrazione, ma è anche una questione di grandi rapporti economici. Dobbiamo lavorare nella coalizione contro il terrorismo, anche sul piano dell'addestramento, alle forze kurde, il lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo partecipare a una sfida che è culturale e religiosa, oltre che militare. Dobbiamo, credo, provare a stabilizzare le principali aree di crisi. Io mi auguro che l'accordo sul nucleare iraniano, raggiunto anche con il particolare contributo dell'Unione Europea, possa dare una mano in Iraq e in Siria. E dobbiamo cercare di allargare la base di accordo che è stata raggiunta in Libia. Infine, credo che l'impegno dell'Italia debba essere rivolto a consolidare alcuni Paesi che si trovano in una situazione particolarmente esposta, di frontiera. So che è una delegazione della Camera è stata in questi giorni in Tunisia. Io sono stato ieri in Libano e sono due degli esempi dei Paesi che oggi vanno sostenuti, consolidati per avere un quadro di maggiore pace e cooperazione nel Mediterraneo. Il messaggio quindi è certamente il contrasto al terrorismo, ma è una sfida che richiede un impegno su più piani economico, culturale, di cooperazione con i Paesi coinvolti, di gestione dell'immigrazione, la sfida a cui noi, Italia, siamo chiamati. Grazie. Grazie, Ministro. A facoltà di replicare il deputato Nicoletti. Prego.